paramahansa yogananda l'eterna ricerca dell'uomo paramahansa yogananda astrolabio voi non pregate abbastanza a lungo prima dovete avere un giusto concetto di dio un'idea precisa attraverso la quale potete stabilire un rapporto con lui e poi dovete meditare e pregare finché quel concetto mentale non si trasformi in percezione del reale allora lo conoscerete se persisterete il signore verrà commento la preghiera continua consuma a poco a poco il potere dominante della mente